Fausto Brizzi, innanzitutto com'è nata l'idea di fare un film in 3D? I film andrebbero fatti tutti in 3D, semplicemente perché la realtà è in 3D, è a colori, quando c'è stato il passaggio a colori nessuno si è domandato perché lo facciamo a colori. Adesso la tecnologia ce lo permette e tanto vale usarla, insomma. Viva il 3D, perché fa sembrare più vera la scena, se c'è da ridere ridi di più perché ti sembra di stare lì, se c'è da piangere piangi di più. Io spero che adesso oltre alla fantascienza arrivino anche i film drammatici dei nostri migliori autori in 3D. Senti, a proposito del titolo, Com'è bello far l'amore, un'altra volta utilizzi il titolo di una canzone, com'è questa fissazione, ce la spieghi? Utilizzare i titoli delle canzoni è semplicemente un veicolo migliore per il film, perché hai qualcosa che è già in testa al pubblico, che puoi utilizzare nei trailer, che in questo caso mi regalava addirittura il tema del film. È la prima volta che esplicito proprio qual è il tema, la tesi finale del film, già dal titolo. E quindi grazie, Raffa. Il film è disseminato di citazioni cinematografiche. Fai dell'ironia sul cinema d'autore. Ci spieghi un po' questa cosa? No, mi sembrava tanto tempo che il cinema italiano si prendesse troppo sul serio. Cioè, e quindi mi è venuto quasi spontaneo, un po', non voglio fare assolutamente paragoni, insomma, ma io ricorderò sempre l'atmosfera che c'era nei film degli anni Sessanta, quando Risi si poteva permettere nel sorpasso di prendere in giro Antonioni. E io qua prendo un po' in giro, bonariamente, gli autori italiani, che a volte sono un po' scollati dal pubblico, ma in maniera bonaria, divertente. Poi sono il primo che quando esce un film di bell'occhio va a vederlo, e non solo perché è un amico, ma perché mi piacciono. O per pomiciare, come dici nel film? Dipende, dipende da come... A volte sui film di Lars von Trier ho pomiciato, lo ammetto, insomma. Nel secondo tempo delle onde del destino qualcosa ho fatto, insomma. Però, alla fine, ben vengano gli autori se hanno un forte segno autoriale. Cioè, io, viva Nanni Moretti, cioè quelli che fai... Vedi due inquadrature e li riconosci. Io non amo, la verità è che non amo i mezzi autori. Cioè, quelli che, sì, hanno l'etichetta autore, ma in realtà non hanno nulla da dire. Dato che hai detto che hai preso spunto dalla tua vita personale per il film, ma anche i rimedi a questo callo del desiderio sono personali, sono autobiografici? I rimedi che Max, il personaggio di Filippo Timi, racconta nel film sono tutti veri. Cioè, provare per credere. Abbiamo avuto come consulente Franco Trentalancia, che è un vero porno divo, ce li ha certificati, li abbiamo anche testati. Cioè, funzionano tutte le cose che si dicono nel film. Provare per credere. Quindi tutti al cinema a imparare come superare la crisi di coppia? Tutti al cinema a imparare come far bene l'amore e come divertirsi. Dopodiché tutti a casa a fare l'amore, immediatamente dopo il film. O anche durante, eh, non è che... Poi magari lo rivedete, ripagate, e tac, se avete pomiciato tutto il film, meglio per voi. Un saluto per Roberto Bigrati, che non so perché oggi non sia venuto alla proiezione stampa. Quindi ciao RB Casting, assente, probabilmente stava facendo l'amore. Lo conosco, stava facendo l'amore. Ciao! Grazie a tutti!